buongiorno 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 oggi vediamo se riusciamo a fare un doppio video nel frattempo sto registrando di giovedì ho fatto qualche partitina contro com per prendere qualche cazzo in curo qua non mi ricordo qua vabbè qualcosina l'ho fatta ma vi faccio vedere allora missione 6 andiamo qui abbiamo questo che ritando anche se metti messi che non c'entra un cazzo te lo fa fare quindi abbiamo qua schiera messi vince vento tu che non so quale sia vento tu vabbè e poi questi un bel pochettino abbiamo fatto segna gol segna sfida qualcosa abbiamo fatto da sappiamo tutto e c'è questa con la segna con l'evento tour 25 su 30 e quale deve le monete ancora qui doveva 30 gol vabbè dopo me li faccio vabbè fatto questo ragazzi buongiorno saluto tutti e non saluto nessuno oggi per voi venerdì dovrebbe iniziare la weekend showdown quindi poi prendiamo tutto qui siamo vedete di non so per 14 milioni gp ragazzi incredibili incredibili beh cosa ci poi facciamo una cosa cosa ci manca qua ragazzi un altro giro qui allora abbiamo preso e lo volevo provare lo voglio provare questo non fa due squadre ragazzi dovevo ritorno a fare due squadre fare notte ci giriamo intorno con non tanto mi sto meravigliando di sacca che non pensavo di averlo questo offensivo vabbè se mi dai rodri è tanto di guadagnato quindi vediamo se c'è di nuovo campionato inglese non farà pezzare in merda per due volte non me l'hai dato l'inglese league 5 stelle babbà fanculo ragazzi ma il cazzo è è stupino è stupino è stupido terzino sinistro quanti ne ho ragazzi blocchiamo lettera ma ok chi te bevi vabbè ragazzi c'è stato un utente e lo voglio ringraziare poi se è vero se è vero se è fattibile la cosa che mi ha detto ah il prof prof one set vabbè un prof che questo urgarte ugarte mediano è buggato ragazzi ha detto tu c'è questo ugarte filtro posizione mediano portazione l'area tra scusate ugarte e io non ce l'ho pompato questo è io c'ho sto cazzo lo devo dire ce l'hai nico ma rodri è 99 lì quindi io devo fare così progresso resetto così poi lo portiamo c'hai questo mi ha detto ma questo non interessa questo ma non è collante è ogni presente è 1,82 visto che me l'ha consigliato io ci provo vediamo lo porto il fiato progresso ah ma non è tanto ma minchia 96 completamente difensivo su che lo portiamo facciamo che cosa questa cosa qui ragazzi allora vi ascolterò ragazzi ma su Valet è una merda è una merda è io sa che ne ho due ragazzi 88 penso io 87 penso 86 velocità 86 velocità è questo che ho fatto ho pompato io no questo ce l'avevo e se faccio così resetta poi fai così eredita progressi diciamo già quello di sacco di oggi vediamo non si può chi ha la morte da chi ha chi ha ma perché pezzo di merda ragazzi vedete non me lo dà perché vabbè progresso il giocatore lo volevo fa più veloce aspetta un blocco a questo uno niente tiro di prima perché ce l'hai già la bucket mouth tiro a scende boh vabbè niente raga non si può fare un cazzo bobo ah vedi isac è la bucket mouth e poi c'è una muda 90 velocità 90 offensivo vediamo e perché uno portiere e come ho fatto a mettere non ho capito vabbè tanta la merda ci avevo fatto sacco vabbè dai no 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 allora abbiamo uno e abbiamo due trippier la collezione non fa 87 velocità 82 vabbè vediamo che succede no e l'edita pareva gli amami stena così credi perché la moda a no sbattui cazzo sto a dio vediamo la moda con te bagascia quando a fanculta non mi serve c'ho questo che non servano un cazzo questo 266 giorni lingua ok allora ancora la metà oh come on 94 84 velocità ma ne ho 89 velocità a bestia dai e anche questo l'abbiamo fatto allora 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 sto facendo una pazia e lo so che andrò contro ogni vostra allora la devo fare vediamo la vista ci siamo come l'emensivo però voglio far giocare da vai poi 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 togliamo a lui ci portiamo quello che mi ha consigliato l'amico 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 e niente ragazzi continuiamo due partite siamo salvi quindi ho mai fatto un cazzo a me ragazzi ma proviamoci tutto il fatto che è tutto il fatto che io mi invece mi ha con il cazzo a me No raga, che match make di merda raga, vabbè dai, vabbè, sperimenti, grazie Konami, vabbè, un po' me la devi spiegare sta cosa, ma non capita proprio, non so come giocare ragazzi, fulfori caso, vedi quest'altro giro, ottimo, una squadra di merda, due difesa a tre, ma c'è pure Rodri, ah non l'ho portato Holland raga, Holland Rodri, vabbè, poi la facciamo la trasformazione e ripartiamo. Anche te leonante c'ho. Toni, ben ti voglio, Toni, questo Toni, Toni, ben ti voglio, prima divisione, vabbè, io con una squadra di merda, con i nomi di merda, poi neanche i nomi aggiornato, vabbè, chiedo scusa. Chiedo scusa, vabbè. Cazzo di nuovo c'ho il maglietto. in anticipo su tutti i palloni. Valla pronta per il secondo calcio parola. Un numero in questa statistica sugli avversari ancora a zero. Vaccoli il passaggio corto. C'è Messi. Cross tagliato al centro dell'aria. Oh. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il controllo. Ma che cazzo? Boh. Da. Che cos'è? Fuori. Vabbè. 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 Non serve. Quindi noi ci stiamo a... ma che cazzo ciao ciao uuuu l'arbitro con l'assistenza delle guardaline dice che c'è stato offside la riduzione Ma come cazzo gliela ha la muetta davanti? Non commento, no, non commento, mi salga avanti alla porta, vabbè, su, eh, ciao, 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 ciao. No, ho sbagliato io qua, ma dove non puoi sbagliare proprio, questi castigano. Ma io salgo tanto, ragazzi, non serve un cazzo il pareggio, fuori gioco. Porca puttana, è incredibile, ma come si fa, ma guarda questo dove sta la minchia. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Tutti così che giocano questi, oh. No, stai giocando tua sorella, eh, ce la voglio ricon... Minchia, ragazza, però, eh. Vado, indietro la dà, che schifo. Ah, è assurdo come gioca a questo, oh. Te la prendi in culo, ma te la prendi in culo, vuoi fare di più? Prima di visio, ma baffango la mamma, beh, tutto a tre mamma. Con Isak, sto Gashquen. Guardate, vedete? Fa sempre la solita cosa, ma io. Penso che deve tirare. Che pagliaccio. Che modo da pagliaccio, poi si gioca. Sì, guarda, vai. Dai, che devi fare che metti in pausa? Dimmi. Mette pure in pausa, metti, oh. Tutta la francese è in culo. I ghiè. Tutta la francese, no? Numero 5, non si può vedere la risa, ma che cazzo ha combinato? Alaba. Alaba. Ciomedo. Essi. Sulla destra. Ceva. Ceva. Ma come non è fall? Ma perché non fischiano sti falli, oh? Ma perché non li fischiano a me sti falli? Cioè, mi hai scalaventato. Ma vaffanculo, vai. Vai, vai. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato, con cui inizia un'altra partita. Luca, le due considerazioni sulla prima frazione di gioco. La prima di gara sembrava promettere bene, con un paio di belli attesivi. Sulla unico. Eh, ciao. Palla all'on, orland e pedalare fa questo, ognun credibile. Palla all'on e pedalare, che schifo, ognun. Guarda, le crossate. Ma ti faccio crossare? Eh, no. Madonna mia, ragazzi. Madonna mia, che schifo. Madonna mia, il numero 5, no. Che numero ha messo? Eh, come fa a stare già avanti questo? Oh, ma ne vai? Soltanto la rimessa laterale qui. Gerard. Ciò a meno. Alla Piera. Lumeriche. Ben fatto. Ecco. Non è venuto quando c'era bisogno di voi. Isaac. Messi. Oh, oh. Non è ti... Allontano il pallone. Qui hanno rischiato cross. La difesa è recita che veniamo. E sì, l'intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo ragazzo. Vabbè. No, vabbè. Ma è un culo di merda, raga. Ancora. Sta giocato la sorella. Deve non capito. L'idea del passaggio era giusta. Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tectico. L'attendanza per questo match è di 60.179. Ci prova con un pallone profondo. Prova a metterla sul pallone lontano. Riesce a buttarla via? Giocato. Io ho metto. Tra le fai un cazzo. Grazie. Peccato, ragazzi, peccato. Penso che me la stia giocando, però così non va, ragazzi. Beh. Oh, mamma, ma non posso farlo giocare con un divisione 1. Uh, uh, è nati lato. Ma che cazzo ho fatto? Il suo sguardo di scusa e il compagno dice veramente tutto. Ci trovano un nuovo agio dello stretto, con la serie di passaggio. Sceglie di andare per via verticale. Alziamo le tac, cittano il pareggio, non zero, non zero. Ah, eh, ciao. Ma che cacato ho fatto. Sempre a Donald va a fare incredibile, ragazzi. Ma vedete come gioca questo? Prima divisione, oh. Ma c'è da avere. Ma che c'è queste predivisioni? Che cazzo dovevo essere io? Beh. Ah, vabbè, va. Non si è potuto fare ca... Niente, non saltano. Dai, raga! Che fai, cambi? No. Eh. 1 e 2 al 1 2 3 4 non vuol fare più niente fatti già i campi ho fatto già i campi si accontentiamo del pareggio e si assisteremo a un colpo di scena oh siiii tutti giù a moca ma niente continua ancora a far sta cosa no tienila 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 culo 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 divisione 1 questo ragazzi ma ci rendiamo conto ragazzi con la squadra di merda raga io ci provo sto caldo proviamoci sempre con la squadra di me ma come cazzo si fa vai che dio ce l'ha amato in buona e non del paio del figlio e dello spirito santo in casa a me lo se perdo ma voglio iena così credi buonio viena così credi buonio viena così credi viena così credi neanche i nomi ho cambiato la gara no ma in gioco in uno l'ho cambiato aia voglia mire che fanno animetti e ma sacra festando si sta comportando bene allora facciamo così C'è la linea. battandolo sapete com'è batti un divisione 1 e perderai con un divisione 4 gli emati quanto costa una giornata nella mia struttura per questa sera è stato annullato per il ricorso rivolgersi all'info point la divisione non dipende dal volere della Venn ma da tutto quello che avete letto sui giornali, ovvero hanno fatto un incidente per un problema di deduzione ma ragà io non so che cazzo dirvi questo io non so che si sta facendo le prugnette che cazzo vi devo dire vabbè anche pellegrini alla Lazio io non so che cazzo dirvi questo primo membro a Sandro Criscitiero la muerta taglia vediamo come va sempre con la squadra di merda ah bello oh 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 ma vabbè ragà proprio non ho spiegato questo fallo vabbè se vuole provarci da quella distanza deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile ma perché non batte ragà niente ragazzi io adesso il gioco non lo capirò mai calma calma Nico stai calmo stai calmo calmo Nico stai calmo stai calmo stai stai abbastanza calmo stai abbastanza calmo con sti numeri di merda non si possono vedere ma vai che non gioca stai calmo stai calmo oh 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 cazzo oh oh Ma che sta facendo? Boh Non lo sto capendo, raga Non so che fare neanche io, sinceramente In questi casi, non mi posso fermare, raga Ma che sta facendo? Sto cacapinucca Ma che sta facendo? Sto cacapinucca, non sto capendo un cazzo Devo far per forza il secondo gol, raga Siano qua, la vedo amara Lo sapete come sto gioco di merda Vedi? Vedete? Intanto sto giocando fuori cazzo di nuovo Non so come prenderlo in cura Ma lo so Ma guardate Esci Niente Ma che fa questo, raga? Ma guarda questa La cpu parla Madonna mi quant'è brutta sta partita No 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 Ma Questo sta scherzando con fuoco I madonna mia O mamma Ho dovuto capire che dirino si passava Mancava proprio spazio Un possesso di palla a seratico Fatto di passaggi corti Ecco un'occasione di controviene Passaggio Enzo Enzo solo tu ci puoi pensare Enzo No Questa stava scherzando Allora mi stava prendendo il culo Ragazzi Madonna mia Non ci credo Lungo passaggio in avanti Dipende con tutto il peso del corpo E ti sottrae il controllo del pallone E non va troppo per il suo Ma che è? Si è ripreso questo, amore E mi ha preso il culo Mi ha preso il culo Mi ha preso il culo Guarda un po' Oh Ma non lo fermo No vabbè raga Ma dai Ma guardate Guardate Oh Oh Ma che sta succedendo Ma non ci voglio credere Ma non ci voglio credere Ma non ci voglio credere Ma ci Ma ci Chissà Se la vedete Alessandro Gamer Quante Quanto è questo Vabbè Ma io lo sapevo raga Io lo sapevo Io lo sapevo Guarda Guarda Ma che Stai calmo 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 Ok, stai calmo, stai calmo, stai calmo, tutto è possibile. Oh madonna mia, madonna mia, io non ci credo. Ma che sta succedendo, ma che sta succedendo, ma che sta succedendo, ma che sta succedendo, cristo santo, cristo santo, non è possibile. Oh madonna mia, madonna mia, madonna mia, ma che sta succedendo, ma che sta succedendo, ma perché si è fermato? No raga, sto quittando raga, mi sto nervosendo, mi sto nervosito raga, mi vergogno, mi vergogno. Guarda, ce le affemi ragazzi, ma perché ce le affemi, ma che cos'hai fatto figlio di puttana? Cos'hai fatto dopo l'un a zero per me? Hai messo in pausa, cos'hai fatto? Cosa cazzo hai fatto? Brutti cittadini, ma... adesso due giocatori a monitorio... Grazie. No, non ci credo, non ci sto credendo. Raga, non ci sto credendo, non ci sto credendo, non ci sto credendo, guardate, io non riesco a fare più nulla, ve lo giuro su mia figlia, io ho la squadra, ferma, ferma, ve lo giuro su mia figlia, guardate, 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 io non ci credo, io non ci sto credendo, no raga, non ci sto credendo, non ci credendo, non ci credo, questo è lo schifo più assoluto che abbia mai incontrato, non ci credo, Non ci credo, non ci credo, non ci sto credendo, non ci credo raga, non ci credo raga, io non ci voglio credere. Mi ha preso per il culo questo, guardate, mi ha preso per il culo, mi ha preso per il culo, mi ha preso per il culo, io mi sono fermato due o tre volte, mi ha preso per il culo, bastardo figlio di puttana, Cheater di merda, pezzo di merda, pezzo di dove cazzo sei? Gura la multa, scassata da manti, dove sei? A pezzo di merda, di dove sei? Che schifo, ma guarda, no raga, no. Fermi raga, fermi, 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 che schifo raga, che schifo, guarda, fermi raga, fermi, ce li ho. Guarda, guardate raga, guardate, state guardando raga, era tutto pianificato raga, tutto pianificato, che schifo raga, che schifo, che schifo, che schifo, che pezzo di merda, che bastardo a Konami che permette tutto ciò, che schifo. Questo è il classico esempio della merda, ragazzi, questo è il classico esempio della merda, ragazzi, guardate, che ho detto io a giocare fuori di classe cosa succede? Guardate, guardate, io non posso fare niente, ragazzi, non ho fatto più un tiro in porta, non ho fatto più un cazzo di tiro in porta, non ho fatto. Ci metto una pezza, salato, pallone interessante in verticale, ha spazio sulla fascia, balla dentro di sacra, butta via, non trova altre opzioni. Allarga il gioco a destra, sono stati forse un po' superficiali in questo frangente, come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Ottima difesa, doveva essere fermato. Anticipa la traiettoria del pallone, scappato pericolo, ottimo senso della posizione, pericolo sbettato. Provo a giocare le profondità. La loro capabilità è evidente, purtroppo quello che manca è tempo. Provo a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Messi vuole liberare il tiro, vede lo scatto e cerca la profondità. Recupera la palla con un ottimo intervento. Palla riconquistata immediatamente. Solo La Manchester United è un calcio di pensione. Il risonato di compromiso vendere il servitore a boxe di pensione. Le risonato delle persone sve Calle finite. Io prendo una nuova attrazione nel을ito le Don. La St escenita è di noi La Churche è un cattaccia delle s?". Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.